Musica Cesare Cremonini è stata la voce principale del Luna Pop. Ora ha una carriera da solo, ha pubblicato quattro album Bagus Magessi, uno più 8 più 24 e il primo Bacio sulla Luna. Il vero nome di Giovanotti è Lorenzo Cherubini. Molte canzoni di Giovanotti parlano di filosofia, religione e affari politici. Mondo è stato pubblicato da Cesare Cremonini nell'album 1999 e 2010, The Greatest Titles. Era scritto da Cesare Cremonini e ha contanto con Giovanotti. Mondo è il 15 più venduto in Italia nel 2010. Cesare Cremonini ha scritto del suo futuro e del futuro del mondo. Mi piace la canzone perché ha una musica buona. Mi piacciono le il messaggio è buono. Il messaggio dice di apprezzare ancora il mondo dove si inviva. Piccole città, nascosti dalla nebbia, prendiamo pillole per la felice ricordia, non siamo virgolini, amiamo l'Inghilterra, perdiamo nell'eternità. Ho visto un posto...